Secondo derby al Partenio Lombardi per l'Avellino di Piero Braia arriva la casertana di Federico Guidi priva dell'ex Gigi Castaldo. Lupi Aquilotti non si affrontano in campionato da lontano 92-93. In quell'occasione i bianco-verdi si imposero per 2-0 grazie ai gol di De Marco e Fresta su calcio di rigore. Mentre l'ultima volta in assoluto risale al torneo 2015-2016 3-0 in Coppa Italia per l'Avellino grazie alle reti di Mokulu, Tavano e Trotta. Il tecnico di Grosseto rispetta la squadra che ha vinto a Foggia giovedì, dovrebbe cambiare tre pedine con Adamo ex di turno insieme al portiere Forte, pronto a schierarsi sulla corsia di sinistra. Dopo l'eccellente prova dello Zaccheria, rilevando così un timido Burgio in avanti, il tandem Fella-Maniero prenderà il posto della coppia Sant'Aniello-Bernardotto. Classico 3-5-2 davanti a Forte a Girano, Ciancio, Michele e Dossena sugli esterni di centrocampo Rizze e Adamo con il trio Aloy, De Francesca e D'Angelo in mezzo. Ennesimo mini turnover per i bianco-verdi anche in virtù dell'altra sfida contro la Tourist in programma mercoledì. Soledì.